Brent! Voltati questo figlio di puttana! Voglio guardarti in faccia mentre ti esplode! Pensi di avermi fregato? Scordatelo! Adesso ci divertiamo! Allora Barry, che vuoi fare? Llamare gli Spirri? L'ho ridotto a tutto, bastardo! Non sperare che non lo racconti ai giornali! Ti voglio fare causa, anche a te e ai vostri amici Spirri del cazzo! Ci guadagnerò tanti milioni, merda! Vaffanculo! Brent! Ehi, stronzi! Non potete uccidermi! Io sono Blitz! Chi è quello che ammazza i poliziotti? Non puoi essere tu! Volevamo incastrarti, ma eri innocente! Sappiamo solo che Blitz ha un debole per gli uomini in uniforme, proprio come quella che indossi e che usa un'arma, uguale a quella che impugno! E' una fortuna che non mi abbia sparato! Qualcosa mi dice che in questo caso rimarrai risolto Brad qui non si può fumare Che vuoi fare? Spararmi?